Mi chiamo Maria Grazia Muri e sono la Presidente dell'Associazione Astarte di Catanzaro. Astarte è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2011 per la volontà di alcuni professionisti del sociale. Quindi stiamo parlando di un'assistente sociale, una psicologa, un'educatore professionale e un avvocato. Astarte nasce con l'obiettivo di occuparsi di quelle che sono le problematiche che affliggono la società. Per cui ci siamo dedicati da subito nel progettare dei servizi che potevano essere utili in questo settore. Il 25 novembre 2011 parte il nostro primo progetto, che è il progetto SOS Astarte Donna. Questo progetto è frutto chiaramente di un lavoro di ricerca effettuato sul territorio catanzarese in merito ad alcune problematiche. Insieme abbiamo deciso che l'argomento di cui occuparci era quello della violenza sulle donne. E quindi abbiamo fatto questo lavoro di ricerca per capire quali fossero i servizi già esistenti per tale problematica. Ci siamo resi conto che oltre ai servizi che già c'erano ne mancavano altri. E quello più importante per noi, il tassello che poi si va a congiungere insieme agli altri, era l'intervento di emergenza, l'intervento di urgenza. Cioè praticamente il fatto di aiutare una donna vittima di violenza nel momento in cui la donna lo richiedeva per noi era fondamentale. Fondamentale proprio perché si parla spesso di denunce, si pubblicizza spesso i numeri a cui fa riferimento per denunciare. Però a volte non basta denunciare. È molto importante informare, anche perché se la donna non denuncia sicuramente ci sono delle motivazioni. Tra cui il fatto di non dare l'aiuto immediato. Per cui abbiamo in un certo senso abolito gli orari di ufficio nel dare aiuto alle donne. Perché siamo convinti che l'aiuto va dato nel momento in cui la donna lo richiede. Per cui 24 ore non stop. E quindi lavorando in questo modo ci siamo resi conto che nel momento in cui si propone a una donna di denunciare, nel momento in cui viene aiutata, nel 90% dei casi lo fa. Quindi nasce così il 25 novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nasce il servizio SOS a starte donna. È un servizio che in un certo senso affianca le forze dell'ordine nel loro lavoro quotidiano, fornendo chiaramente un supporto in più, che è quello psicologico e sociale. E questo è molto importante, in quanto oltre l'aiuto che viene dato alle donne, c'è un modo diverso di guardare le figure professionali. Quindi l'assistente sociale, lo psicologo, l'avvocato, l'educatore, che non lavorano dietro una scrivania, bensì si recano dalla donna, in qualsiasi posto, nel momento in cui avviene la violenza, e soprattutto in 24 ore non stop. Quindi ci siamo trovati, attraverso questo servizio, a lavorare soprattutto nelle ore serali e notturne, soprattutto nei giorni festivi, proprio perché la violenza purtroppo non ha orari. Siamo partiti facendo semplicemente del volontariato, quindi non abbiamo avuto alcun finanziamento per i primi due anni di attività. Ci siamo sostenuti, diciamo che ci siamo autofinanziati, ogni operatore che ha voluto collaborare si è autofinanziato. Da due anni a questa parte il progetto è stato finanziato dall'8x1000 della Tavola Valdese, che praticamente attraverso i loro fondi elargiscono appunto questi fondi alle associazioni no profit. Quindi il nostro progetto è stato provato e portato avanti. Abbiamo ottenuto tanti risultati positivi, tante donne si sono rivolte a noi e le abbiamo aiutate in tutto il percorso. Da oltre un anno siamo stati firmatari del percorso Rosa, che è stato promosso appunto dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro, nonché dal nostro prefetto, la dottoressa Latella. Quindi aderendo a questo progetto abbiamo riscontrato appunto un aumento delle richieste. Infatti siamo stati ripetutamente contattati dal pronto soccorso dell'ospedale pugliese di Catanzaro e quindi abbiamo fatto fronte appunto a risolvere determinate situazioni. Il progetto è risultato molto utile, però c'era un qualcosa che mancava. La difficoltà che abbiamo incontrato nel portare avanti tutto questo era trovare una collocazione per le donne, una collocazione soprattutto immediata e di breve durata, perché noi comunque non siamo favorevoli alle istituzioni di rifugi per la violenza sulle donne, in quanto siamo convinti che la donna deve rimanere comunque nel proprio domicilio e chi deve essere allontanato deve essere semplicemente l'aggressore. Però purtroppo i tempi tecnici per lavorare su tutto questo, cioè dal momento in cui avviene la violenza, risultavano abbastanza lunghi. Per cui era necessario avere un rifugio proprio di emergenza. Ci siamo ritrovati spesso ad accompagnare donne in località abbastanza distanti, perché non era semplice trovare un posto libero nei centri antiviolenza presenti sul territorio. Quindi ci siamo ritrovati, che ne so, alle tre di notte, magari ad andare a Montalto, quindi stiamo parlando di un paese a un'ora e mezza e oltre di distanza, per accompagnare delle donne. Quindi mancando questo tassello nasce il rifugio di Astarte, che è appunto il luogo in cui mi trovo oggi e che mi piacerebbe farvi visitare. Bene, il rifugio di Astarte è stato finanziato dai fondi dell'8x1000 e della Tavola Valdese, con la collaborazione del comune di Miglierina, che attraverso il sindaco abbiamo avuto appunto la disponibilità di utilizzare questo piccolo spazio, che abbiamo in un certo senso ristrutturato, perché era ristrutturato in parte, è un ambiente molto piccolo, perché siamo convinti che la donna debba sentirsi a casa, quindi è importante che gli spazi siano piccoli e accoglienti. Oltre al comune di Miglierina c'è qualcuno che ha contribuito appunto ad arredare questo rifugio e a renderlo più accogliente. Quindi stiamo parlando dell'azienda Gerardo Sacco, che ci ha permesso di fare appunto una piccola raccolta fondi, nonché dalla CGL di Catanzaro, e nonché appunto dalla signora Letizia, dalla dottoressa Letizia, che ha messo a disposizione alcuni mobili che erano di sua proprietà, anzi delle sue zie, e quindi ne ha fatto dono appunto al rifugio. Qui siamo in una delle stanzette, quindi non abbiamo utilizzato i letti a castello, proprio perché la donna si deve sentire accolta nella propria casa e deve stare soprattutto comoda. I posti sono solo due. Qui c'è l'altra stanza. I posti sono solo due. Praticamente in caso di emergenza possiamo aggiungere un terzo posto che praticamente si trova in questa stanza che per noi rappresenta il nostro piccolo studio dove accogliamo le donne. È chiaro che aggiungeremo anche delle culle, quindi è prevista anche la presenza di minori, così come è accaduto la settimana scorsa, in quanto già nella scorsa settimana abbiamo avuto due ospiti. E quindi vi faccio vedere che cosa hanno realizzato per noi per ringraziarci dell'accoglienza che gli abbiamo dato, insomma. Infatti questo è un lavoretto fatto da una bambina di 11 anni. Ecco, quindi ci ha voluto lasciare in dono queste sue cose, insomma. Abbiamo cercato di impegnarla durante la giornata, quindi abbiamo preso del materiale e da utilizzare appunto per la creatività, insomma, quindi per non farla annoiare. Prima di andare via ci hanno lasciato appunto dei pensieri. Ecco qua. Ci hanno lasciato dei pensieri per dirci grazie per quello che abbiamo fatto per loro. La presenza nel rifugio deve essere di pochi giorni. Quindi noi dobbiamo fare in modo che dobbiamo fare in modo che le donne possano rimanere veramente poco per il minimo indispensabile. Così come abbiamo fatto la scorsa settimana dove praticamente è stato richiesto un provvedimento di urgenza, di allontanamento della persona che aveva appunto commesso la violenza nei confronti di queste ragazze e dopodiché hanno finalmente potuto far rientro al proprio domicilio. Adesso vi faccio vedere la nostra terrazza che è l'angolo molto carino per noi quindi ci sono anche degli spazi verdi nell'ambito del rifugio e poi l'altra cosa molto importante che nell'ambito del progetto contro la violenza sulle donne è prevista anche la presenza di operatori uomini. Infatti c'è Cristiano che ormai diciamo fa parte da qualche anno del progetto SOS a Sarte Donna e si occupa appunto insieme ad altre figure femminili dell'accompagnamento delle vittime. Invece la permanenza all'interno del rifugio ci sono solo delle operatrici donne quindi le donne vengono accolte comunque da personale specializzato da assistenti sociali o altre figure professionali ma poi la cosa molto importante che ci sono le vittime che noi abbiamo aiutato oggi le chiamiamo ex vittime che sono in fase di reinserimento sociale che comunque oggi fanno parte attiva del progetto quindi sono delle operatrici che operano con noi appunto nel portare avanti questo discorso qui siamo nell'angolo verde del del rifugio di Sarte quindi oggi iniziamo a vedere appunto siamo in primavera per cui iniziamo a vedere i frutti di tutto ciò che è stato fatto anche all'esterno del del rifugio e io penso che con i risultati che stiamo avendo nel momento in cui continuiamo ad aiutare le donne anche attraverso il rifugio si cominciano a vedere anche i frutti del nostro lavoro e di questo nostro progetto pilota a cui teniamo in modo particolare perché comunque è un progetto unico in Italia sto parlando del progetto SOS Sarte Donna e chiaramente il nostro lavoro non si concluderà qui perché quello che è il nostro obiettivo appunto è di continuare a lavorare su questa tematica che purtroppo sembra veramente una storia infinita basta guardare i giornali e tutto il resto insomma ci rendiamo conto che c'è veramente ancora tanto da fare per cui speriamo di continuare a lavorare su questa tematica e a ottenere dei risultati ancora più profigui e dunque noi veniamo contattati chiaramente dalle istituzioni quindi dalla questura dal pronto soccorso da altre istituzioni ma anche dalle stesse vittime di violenza nel momento in cui ci chiedono il loro aiuto attraverso il nostro numero verde che è 800 642 882 che è